Siete collegati con lo stadio Matusa di Frosinone. Tra pochissimi istanti inizierà la tanto attesa Frosinone-Inter. C'è grande attesa soprattutto tra i tifosi canarini. Piena lotta la squadra, lo sapete, per la salvezza in questo difficile campionato di Serie A. Al mio fianco lo riconoscerete il nostro collega Luca Rea. Alle nostre spalle lo potete vedere la curva che si sta riempiendo di tifosi interissi. Proprio in questo momento è entrata in campo la squadra allenata da Mr. Mancini per l'allenamento di routine prima della partita. Siamo in grado già di darvi, giusto Luca, le formazioni che scenderanno in campo. Allora, il Frosinone scenderà in campo con Leali, Gori, Blasciard, Frara, Gucar, Ciofani, Kragal, Paganini, Pavlovich, Rosi e Aieti. Ovviamente non sono in ordine di ruolo. L'Inter risponde con Andanovic, Juan Gesus, Icardi, Jovedic, Biabiani, Telles, Mauriglio, D'Ambrosio, Perisic, Bronzovic e Felipe Melo. Insomma, tra l'altro in panchina Eder, un ex importante. Che torna per la terza volta. Torna per la terza volta qui al Matusa. Dopo aver giocato le due gale si troverà a giocare di nuovo col Frosinone, dopo aver giocato con la Samp e adesso con l'Inter. Allora, diciamo, una partita molto attesa qui in provincia di Frosinone. A Frosinone arriva un'altra delle tante blasonate squadre del campionato italiano. Una partita che vedi chiusa come pronostico o cosa? Assolutamente no. Una partita all'Inter non si sa mai. Già all'Inter non si sa mai se riesce a chiudere le partite, anche quelle più difficili. Figurati quelle un po' più facili. Non c'è il rischio che possa essere un po' sottovalutata. Chissà. Una buona chance per il Frosinone. Allora, come detto, mancano davvero pochissimi istanti a questo incontro molto atteso a Frosinone, in provincia di Frosinone. Vi abbiamo dato con largo anticipo le formazioni che scenderanno in campo. Noi ci risentiamo alla fine del primo tempo per il commento dopo i primi 45 minuti di gioco.